Ma il percorso è andato molto bene, tendenzialmente mi ritengo soddisfatto del percorso di studi, dei vari moduli, dei docenti, comunque tutti i professionisti, tutta gente esperta del settore e anche il dettaglio che si raggiungeva era sufficiente per quello che era il mio intento di preparazione di questo master. Certo, certo. Hai già trovato un'utilità pratica in alcune specifiche situazioni? Ma alcune specifiche situazioni sì, soprattutto la parte di email marketing che ovviamente poi dopo rimane utile anche in tutte le applicazioni ingegneriche che qualcuno può trovare, sia lavorative che anche personali e poi anche molto utile la parte di SEM e di Google Analytics perché gestendo anche un sito web o un'associazione con una cosa che faccio a livello personale mi interessa applicare questa parte di SEM per cercare di vedere possibili ottimizzazioni, quindi implementare quelli che sono e trovare nuovi benefici. Certo. Perfetto. Va bene. E la fruizione online com'è andata? Esatto, hai detto che ero uno dei partecipanti online tu, giusto? Sì, sì, ero partecipato online, ho seguito quasi tutte le lezioni, quelli che non ho potuto seguire sono riuscito a recuperarle vedendo le registrazioni, è molto comoda, infatti tenderei anche a consigliarla perché comunque è comoda, si segue da casa, facilissimo, ci si collega in un attimo e anche la qualità video era buona, quindi è facile da seguire. Perfetto, grazie Luca. Grazie.